Salve amici e benvenuti! È uscita la patch note della 1.2, quindi CD Projekt sta cercando di farci quasi tiserare questa cazzo de patch perché prima ci ha fatto uscire la settimana scorsa tutta quella GDRosa presentazione di alcuni punti importanti a mo' di telegiornale, moto GDR oggi ci fa uscire la patch note però ancora la patch non è uscita e a questo punto io penso, dato che siamo al 29 marzo che vorranno far uscire proprio il 31, l'ultimo giorno utile in modo da rientrare comunque in marzo ma la patch è notevole, molto notevole, infatti guardate un po' quanto è lunga sto scorrendo, sto scorrendo, continuo a scorrere, sto scorrendo e quindi insomma decisamente hanno lavorato in questi due mesi ho letto molto velocemente perché ci vorrebbe tipo 45 minuti, un'ora per leggere ogni singolo punto però diciamo che la maggior parte, diciamo il 95% di questo patch note sono dei fix su missioni o problematiche specifiche in alcune missioni oppure in situazioni che accadevano, che si triggeravano durante missioni varie eventuali sia secondarie che primarie questo è il 90% della patch, chiaramente ci sono quei punti molto importanti all'inizio che se andate a rivedervi anche l'altro video, comunque adesso ve li ripeto sono abbastanza fondamentali come la polizia, l'instant respawn della polizia che non ci sarà più quindi banalmente spaweleranno fuori dalla vostra visuale i poliziotti però arriveranno a piedi o in macchina e quindi sembrerà tutto molto più realistico, non che vi chiudete in uno stanzino e vi spawna il poliziotto da dietro il muro questo non dovrebbe più accadere poi la guidabilità delle macchine, l'inserimento di svariate opzioni sui comandi sulla guida in modo da aumentare la sensibilità, diminuire la sensibilità ma in generale poter avere una guida molto molto migliore che era abbastanza necessario, dato che il lato guida in cyberpunk è vietoso poi ci sono delle modifiche anche sugli scatti, questo era stato anche visto nel video precedente e in generale comunque dei quality of life sul gameplay poi c'è appunto una quantità smodata di fix su milioni di quest, di problematiche anche game breaking che c'erano e vi dico potete leggerla o vi lascio chiaramente il link in descrizione ma ci vorrebbero veramente un'ora per leggere tutto questo comunque denota la quantità, la massività di questo patch note che effettivamente c'erano un incredibile numero di problemi ma questo insomma ce ne eravamo accorti un po' tutti andando in fondo però ci sono le cose specifiche sia per pc che per console e soprattutto le problematiche di prestazioni tra le note più importanti forse per pc il fatto che ray tracing viene attivato sulle schede AMD che fino ad oggi era stato disattivato potevate avere ray tracing solo con Nvidia serie 30, serie 20 e adesso anche con AMD ma soprattutto le modifiche sulle prestazioni e problematiche che potevano incasinare il gioco sulle console quindi playstation 4 pro, playstation 4 normale, xbox one x, xbox one questa parte probabilmente potrebbe interessare alla fine del patch note molti soprattutto quelli che avevano abbandonato il gioco su console perché era ingiocabile oppure veramente faceva frame troppo basso, si crashava a nastro eccetera eccetera quindi questo è particolarmente importante poi va bene, tutta una sfizia di fix, bug sulle quest e sui quality of life come detto sono abbastanza contento, anzi molto contento che questa patch note sia così grande quando avevo fatto la recensione della patch note 1.1 l'avevo trovata super poco interessante, molto corta, pochi bug fix e qualcuno pensava che fossi stato troppo critico ma non era nulla rispetto a quanto era incasinato il gioco questa invece, questa è una patch note seria questa è una patch note di svariate pagine che denota comunque un impegno a risolvere tantissimi problemi che il gioco ha molti problemi che alcuni manco se ne sono accorti però effettivamente quasi ogni quest aveva dei problemi alcuni gravissimi, alcuni meno gravi e in generale il gameplay era abbastanza incasinato giusto per citarvi due cose quasi banali che però ho visto che hanno fixato il fatto che molti NPC inciampavano da soli in continuazione ed era abbastanza stupida questa cosa e questa cosa viene stata fixata oppure le compenetrazioni, il fatto che gli alleati adesso sono incorporei quindi non vi bloccano più il movimento perché a volte capitava che si fermavano in mezzo alle porte e voi non potevate più passare adesso potete passare attraverso queste sono stupidaggini però insomma aumentano la qualità del gioco la percezione della qualità della giocata quindi ottima sulla carta patch note bisognerà vedere ovviamente come andrà live se tutti questi fix funzioneranno bene e non incasineranno ancora di più perché quando si va a modificare tantissime cose tutto in un colpo si possono creare altri problemi cioè è una cosa molto molto comune che si aggiustano qualcosa e si rompe qualcos'altro quindi in realtà dovremo testarla questa patch cosa che sicuramente farò appena uscirà spero entro i prossimi due giorni la proverò sulla mia versione PC ci giocherò qualche ora anche più di qualche ora e vedremo un po' come risulterà il gioco considerando che io lo gioco comunque su una ottima macchina cioè mi aspetto che almeno su un PC di media alta fascia ok tutto funzioni bene poi chiaramente vi chiederò dei feedback per chi lo gioca su console per capire anche magari faccio un sondaggio poi un post sondaggio sul canale per capire come vi sta girando il gioco con la patch su console perché chiaramente io non lo posso sapere comunque sono contento di questa enorme numero di fix che erano sicuramente necessari e spero che continueranno a lavorare bene per raggiungere alla fine una qualità decente del gioco perché chiaramente fino adesso il gioco è stato abbastanza indecente soprattutto dal lato gameplay il mondo abbiamo detto più volte che è straordinariamente bello purtroppo è un po' un acquario molto rompibile facilmente speriamo che da questa patch in poi si potrà avere un'esperienza migliore per questo gioco così ambizioso detto questo fatemi sapere cosa ne pensate di questa patch note se ve la leggerete oppure no oppure semplicemente aspetterete di scaricarla e provarla oppure niente c'è chi ha abbandonato definitivamente il gioco a volte vedo dei commenti molto rassegnati diciamo su cyberpunk comunque io seguirò sempre ogni progresso che farà questo gioco anche perché questo canale è nato su cyberpunk purtroppo avrei voluto fare più cose ma io stesso dopo averlo finito poi mi sono scazzato abbastanza a giocarlo proprio perché l'ha sfasciato a merda ma cercherò sempre di seguire i suoi progressi e magari quando arriverà in una sua forma finalmente perfetta o semi perfetta magari riporterò altri contenuti perché magari mi verrà voglia effettivamente di giocarci più estensivamente detto questo ci becchiamo prossimamente per altri video e sicuramente per chi mi segue solo per cyberpunk ci becchiamo sulla review o la revisione, recensione della patch vera e propria quando sarà messa online e io la potrò testare e vi darò una opinione almeno dal mio punto di vista su PC ci vediamo alla prossima ragazzi una buona giornata come sempre ciao ciao